Parma quest'oggi in maglia blu, schiera con il numero 1 Zomers, 2 Messina, 3 Agrifogli, 4 Colabi, 5 Caccioli, 6 il capitano Lucarelli, 7 Melandri, 8 Miglietta, 9 Longobardi, 10 Musetti, 11 Ricci. Siederanno in panchina con il numero 12 Fall, 13 Adorni, 14 Benassi, 15 Rodriguez, 16 Martocchi, 17, 4, 18 Sireni, 19 Lauria, 20 Barraie, allenatore il signor Luigi Apolloni. Limolese oggi in maglia bianca con il numero 1 Niccolò Bracchetti, 2 Alberto Bonilla, 3 Davide Zossi, 4 il capitano Samuele Olivi, 5 Lorenzo Galassi, 6 Niccolò Scamini, 7 Jacopo Gagagnoni, 8 Alfonso Selleri, 9 Gustavo Ferretti, 10 Riccardo Pasi. Con il numero 11, con il numero 12, con il numero 12 Riccardo Lanzotti, 13 Matteo Bertoli, 14 Samuele Vinto, 15 Iller Frangu, 16 Daniele Mordini, 17 Salvatore Russo, 18 Jonathan Alexis Ferrante, 19 Marco Tattini, con il numero 20 Daniele Rocco, l'allenatore il signor Guido Pagnucca, direzione di gara affidata al signor Gianmarco Capetti della sezione di Valdarno, primo assistente Mirko Andretta di Conegliano, Nicola Vettori di Treviso. A tutti voi amiche e amici sportivi, buon calcio e buon divertimento.